la fedeltà alle sue scelte ma perché scusatemi un marito e una moglie che hanno scelto di sposarsi e lì non c'è una fedeltà quotidiana nel riconfermare ogni giorno quella scelta perché certamente un marito e una moglie che sono sposati non è che l'uomo siccome ha scelto quella donna vuol dire che non vedrà altre donne che possono essere anche oggettivamente più belle però lui ha scelto quella lì io ho scelto questa qui ci sarà anche oggettivamente un'altra donna che è più bella ma per me è lei e quindi altra bellezza c'è la posso anche riconoscere che quella lì effettivamente fisicamente è più bella però la fedeltà a quella scelta lì è quella testimonianza se questa è testimonianza professione di fede qui qual è la professione quale è qui è il matrimonio allora lì invece la testimonianza quotidiana alla quale tu comunque devi lottare perché devi lottare perché la tentazione non è semplicemente che vieni il demonio lì e ti vuole tentare perché fai la bestemmia o vieni il demonio e ti vuole tentare perché tu vuoi rubare quella cosa è un'altra donna è un'altra donna